Ehi ragazzi, io sono Feriniti e io sono Steph e questo giochiamo a Guts and Glory, un gioco abbastanza vecchio, stile Happy Wheels, che mi ha sempre fatto ridere che non l'ho mai provato e soprattutto a pieno instante A me non piacciono sti giochi Ma si salta un sacco Lame, cose da schivare Non li capisco e non mi fanno ridere Ma sì, è perché non li ho mai provati Oggi riusciremo a far divertire a Fer No, non credo Questa è la nostra missione Allora, primo livello si chiama Giorno Felice Ok, il padre e il figlio guardano in un certo tempo di bla 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 e devono fare una passeggiata Ok, allora io userei o Earl o Zoe No, ma scusa, dovevi fare padre e figlio No, niente padre e figli qua Aspetta Aspetta Steph non sa guidare No, si usano questi No, perché? Cos'è? Pieno di lame strane Hai visto? No E lì c'è il coso grande Quanto una capanna Steph Cioè Pulisci gli occhiali Ti prego Steph Scusa Ti prego Tieni Tieni Perché non è possibile A questa roba Cioè era enorme Questo cerchio giallo gigantissimo Tra le due case Tu non me lo vedi? Dove? Allora fai questo Ah Eccolo Steph Eh ma tu sei molto bravo Che bravo che sei Eh ma Oh bimbo Io mi volevo fermare Lo giuro Steph però Te lo giuro Che cavolo Lo sapevo Beh però vedi che riso Vedi? Non sto ridendo per quello che tu pensi Perché i fucili da caccia dietro? Cioè da caccia il fucile a pompa con la mazza Ok ce l'ho fatta Vero E però Anche senza un braccio ce la facciamo Steph Fatta Ok Ok Allora Traccia successiva Antico mulino Siamo pronti Mi è piaciuto lui Ah infatti No usiamo dai Quello classico Non mi piace quello col bambolotto dietro E' troppo creepy Mi storpio Cioè in bici io non so andare Neanche in un gioco Ho capito Che poi non so quanti tasti ho Non lo so Avresti dovuto leggere Sono un po' preoccupato Perché questo qua è il Monteciliad di GTA Praticamente Ok si Vedi e quindi succedono queste cose Tutto a posto Cosa ci stava sparando? Ti stai divertendo Non lo so C'era qualche sparafere O era il vento No no sono arpioni Ma che cavolo Vedi Ma chi ci sta sparando? Non lo so Che noi stiamo semplicemente andando in bici Passeggiando Contenti Però era tutto a posto Ma che gioco è Steph? Non ti ribaltare Di nuovo gli arpioni Vedi 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 Sono questi cosi che sparano Eh ce l'hanno preso Però sto bene No Vado un po' più lento Però sto bene Ma l'ho preso tuo figlio Ah quindi ha parato Il colpo Dissi Zitto Fatto Tutto a posto Ma è un manichino quello dai Lo sono tutti Allora traccia successiva Non giustificare Steph Riscaldamento Ok Larry Larry voglio volare E ne pento Ecco qua Oh no Aspetta però Ah Ecco Ma come fai a usare una tastiera così? Comunque probabilmente è pensato più per joystick Steph Non so perché noi ci siamo collegati a un joystick Dai continua a fare molto Sto imparando La fa la giro a volta Guarda Vai Vai Potevi girare Dai ce la fai È lì il bersaglio Steph È facilissimo Provalo Ah io non uso uno Tu usi l'altro Vai No E allora che mi fai provalo Anirà Bravo Steph Vai Vola Dai dovresti essere abituato ai jetpack Steph Porca miseria Vai Steph Non ne posso più Drickshot Ti diventerò una girandola Sei felice? Sto meglio adesso Tutta po' Eh ma per i bimbi si mettono in mezzo qua Era una signora almeno stavolta Ah ok Sembra Non lo so Ok Guarda io ho visto nella foto Che in questo livello Ha i cannoni Non sto ridendo Vedi che vanno a ridere Perché non te l'aspetti Ti prendo all'improvviso Ho visto che in questo livello Spum E vabbè ma Calmati Appena iniziato Almeno che ho avuto il mio cannone Mamma mia Si è rotto Ah c'è una mina per terra Le vedi? Si Vai Steph Eh vabbè dai Quanto è un casino È pieno di mine Ok Aia Però sto bene Tutto a posto Che fortuna ho avuto Era solo un colpetto Ma no Ma no Tra tutte le cose che ci sono Mine Palle di cannone Sbatto su un palo Vai siamo ancora in gioco Ma è che è morto No Eh si V per iniziare Ah No È proprio steso Si 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 è addormentato Perché vedevo il record Andare avanti Ah Ok Almeno c'è un checkpoint È una buona notizia Ok L'hai visto? Si Però mi fa correre Vedi È quello il problema Che corri Però dai Se sei veloce Scappi prima che esploda Vabbè dai Basta Vincitori mai smettere Steph Vincitore Tu essere Mai smettere Traccia successiva Aioioioioio Allora Vai Oh cavolo Iniziano le rampe Aia No vabbè Comunque fa proprio Da scudo Se mi hai Tatto Una palla Mi ha fatto finire Sulla mina Si Ok Vero ci velo Ci velo Ci velo Ci velo Uuuuh Ma che succede? Non lo so ma ne devo approfittare Praticamente No 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 vabbè Li hai visti? Che cattiveria Si Continuano a tirare gli elettrici Questo livello è difficile Difficilissimo Ma praticamente Una palla di cannone Ha fatto esplodere Tutte le mine Sto su un disastro Allora No vabbè Impossibile Oh scrivo le frecce O prendo le mine Eh Cioè non fa Poi vabbè Guarda È stata colpa Della palla di cannone Cosa ci posso fare Se la palla di cannone È smirata Oh mamma Oh Ok Adesso dove sei Veloce Appena arrivo lì dentro Rallentare Vedi ti posso fare così No No Non così Gioca Metti una mano Lo prendi Allunga un braccio Non ti arrendere E invece sì E invece si arrendere Anche perché Quello è il checkpoint Capita Lo so Per quello rosico Tantissimo Ok Come le hai schivate Non lo so Era molto film di Hollywood Ok Calma adesso È meglio qualche freccia È difficilissima Sta roba Sì È difficilissima Ce l'abbiamo È troppo stretto Ce l'abbiamo Vai Ok vedo delle mine Basta con quelle frecce Ok 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 La rampa È il nostro momento Finalmente il primo stante Per Steph Schiva le frecce Vola E vola Oh E ce la fa Ce la fa Non era necessario La partiamo con noi Non gli avevo visto Ne è chi Oh stiamo andando anche bene Secondo me siamo anche In una posizione Abbastanza alta Quindi secondo me Io mi sto divertendo un sacco Andando anche bene Colpo di frusta Anche perché ci sono I livelli fatti dal gioco E poi i livelli fatti dalla gente E quelli sono cattivi E quelli sono cattivissimi Allora Ok Secondo me prendi Ah lì c'era una lama Non so se l'hai vista Non si vedono però Con questo tramontino Non si vede una ceppa Ok Va tutto bene Steph Avevo capito che c'era qualcosa Che non andava Che non andava Però ormai era troppo tardi Quindi ho approfitto A vedere come sarebbe andata Ovviamente Questo è un casino Anche perché io Queste là me le ho schivate Ma in realtà Sono parecchio difficili Da schivare Ho notato Perché qua ti posso Ce ne sono due Ok dai Alla fine non è così impossibile Ok Non prenderò di testa Vabbè però Prima non ero così veloce Vuol dire che si è andato Molto bene Ho preso un sacco di velocità Attento Tranquilla Tanto prima o poi mi prende Però non dirlo Devi abbassarti E come? Non lo so Perdere quota Forse è facile Fai Non lo so Guarda Vai Pronta? Per me non moriamo con stile No? Cioè Ti sei infogato Sì ho detto cavolo Se ce la fai così È da fare un urlo Peggio di quelli Dello stadio Stef Ok Provo Tipo così No Stef Devi perdere un po' di qua Te basta Non devi girare Allora rallento Non stai girando Sì devi rallentare Ok Cadendo dritto Non girando E continui Rallenta Io Ti avevo smesso Di premio L'acceleratore Come hai fatto La prima volta No lo so A caso La prima volta È andata bene E va Beppero Vai 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 Guarda lo fare a giravolta Quello è difficile No Ceri Secondo me Se andavi così Gira 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 Non cadere Sei tutti noi Stef Cosa Ancora Cavolo Secondo me abbiamo troppa Poca velocità Ce la facciamo Uh Sì Checkpoint Ah non è finito Sì Sì Era la fine C'era la bandierina Questo è stato impegnativo Siamo stati bravi Bravissimi Fantastici Bel video Mettete like se vi è piaciuto Fateci sapere se lo volete rivedere Dato che è pieno zeppo di livelli Che sicuramente fanno impazzire ancora di più Iscrivetevi al canale Cliccate la campanella Se non l'avete ancora fatto E ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao